Esce tutta truccata, ride soltanto forzata Si crede al di sopra del mondo Veste solo firmata, mostra la borsa griffata L'aspetta una bella serata Cresciuta troppo in fretta, tra l'insalata Una dieta ed il fumo di una sigaretta Beve per invecchiare, non per dimenticare Si sente più bella E' la tipica ragazza italiana, che a volte può sembrarti strana Disse attentamente tutta la settimana, con quel pane da persona A cui non interessa niente, di tutta l'altra gente La cosa più importante è farina affascinante Grazie a tutti per la98! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.